e gogo a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della serie di fortnite oggi siamo qui con francesco franci saluta bella e oggi facciamo la deltaplano challenge cioè avere i deltaplani casuali e praticamente ti capita uno di questi deltaplani ad esempio ti capita questo e devo prendere tutte le armi leggendarie perché è epico pini larvi epiche se ti capita quello blu di quelle blu esatto e mettiamo pronto e andiamo in partita metto pronto esatto io raga mi sono fatto la foto del dei deltaplani perché sennò i problemi che non riesco a capire quali sono leggendari ma tu sei un ogni ora non ti ricordi ma col tuo armadietto ma io non mi ricordo manco quello che ho mangiato ieri cosa mi devo ricordare il mio armadietto si ricordi ma tu non ti ricordi anche quando sei nato aspetta fra quando sono nato che cosa sono partiti però i vissi comunque raga poi mi dovete dire come come è stato l'evento per voi per me è stato bello non l'ho potuto fare la diretta o i video perché problemi tecnici tecnici osi spiega il suo sorella esatto o per favore non fare il copio di te vuoi sì no 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 tranquille andiamo a un posto safe fra scogliere ho capito ma il lago vediamo che il deltaplano io bobina diffusione leggenda no fra io pure c'era pure il cielo quello leggendario franzi andiamo qua andiamo qua ci arrivi ecco lo si va guarda 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 è questo qua si è leggendario ma c'è un guadattere fra io so vabbè c'è un fraccino agente a sete fra possiamo ucciderli con l'elicottero questo è il bello però io guarda io sto accorto dove arriva a tirare che tu devi andare e sei andato là ma ma te l'ho pingato pure ma che tristezza ma con l'arma di piascoli puoi pigliare perché quella è mitica no fra facciamo che l'arma leggendaria vale anche quella mitica io che prendo le armi no fra qua ci moriamo raga se non ce la facciamo comunque abbiamo abbiamo tre 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 trenta tv in italiano si vogliono rispara e come no fra io trovo scelgo franci vincerò per te tranquillo io sono vivo ancora io sono pure davano perché voi leggendari di vita ci rischio punto di tesi o aiuto abitati come dovrei fare vengo col vengo col non mi hanno preso l'elicottero oh oh fra 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 arma leggendaria sta arrivando oh pistola ha visto ah beh meglio di niente pistola tutto insi che alla prima volta che serve una pistola arrivo tutto tutto bello arrivo solo con il shield hai cuore blizz 11 di vita ti ho lanciato un medico niente no ma perché devo sempre pompa verdi no fra io devo avere dei amici a te dai voi da strinare frano no armi che io sono di scuola che potevo dire che io non avere armi questo in testa dell'ho lanciato e che sono bene almeno vincinio vabbè almeno abbiamo qualcosa almeno uno di noi può sparare giusto mi ascolo ma non è la mi ascolo mi ascolo è dall'altra parte dell'universo chi si piglia la varia? tra per favore io tu cosa ho detto tu sei allontana io quasi vabbè cominciate ad andare se però io sto aprendo questa cesta vediamo intanto se c'è vediamo ok ti prego assalto blu ok vabbè cioè quando lo cerco però però se trovi l'arma epica te la puoi tenere per trasformarti nel leggendario ok vero ma anche le armi blu tutte le armi no solo quella epica ma è un casino così vabbè dai ci sta lo hai ucciso mi ascolo perché non mi corre ok io ho un bordello di leggio perciò posso trasformarlo se vuoi sì ma io ho anche un pochino di leggio preciso ma tu hai qualche armi tu hai qualche arma epica eh ma anche no ah ok ottimo sei tu che spari da mano l'avevo capito aia quanto stai smirando no il gatto quanto sta smirando fra dimmi quando togli tanto scudo qualcosa vai arrivo 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 aia vabbè gli hai tolto un po' di cose ci gli hai tolto lo scudo eh sì ho tirato tipo sui c4 gli ho tirato anche se le io un po' se le piglio va 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 adesso vi piglio è arrivato è arrivato è arrivato vieni che cretino che cretino che sto non me lo so ma che cos'è mi stai toccando mi stai toccando il culo aiuto ma no ah mi falta sta via questa uccida 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 aspetta fermo come non lo uccidere uccida apposta così ah beh la chiave inutile grazie a vero la carica i colpi i colpi in dritto me li vuoi dare grazie sì aspetta non le hai sì sì non ce li ho però non possiamo giocare con la mitraglietta perché la mitraglietta è vero avremmo potuto giocare con la mitragliatrice se ci fosse stata la mitragliatrice leggera le altre il piro la tieni qua ma le granate non valgono no valgono che cosa le granate non valgono troppo severa la cosa se mi dici le granate si 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 se mi dici le granate non valgono uno pensa le granate non valgono non le granate cioè tu mi dici le granate non valgono intendevo le granate valgono tra attento la 29 shield 29 29 se col cavolo tu quello l'hai smirato arriva l'amico 29 29 rotto scudo all'amico si ci sono hai vista no non pushare fra berost vai 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 ah la granata pure io la sto lanciando e io lo devo più adesso a pistola io devo davanti metteci quella pacità ahia fra mi devo curare cioè che iris e bianca iris e bianca proprio morto e vabbè ma è impossibile ahia si altri due cose sono praticamente morto sono un cadavere mio dio con lo scala leggendaria vabbè dai primo tentativo addio adesso abbiamo un secondo ok va bene ragazzi però dovete capire che eravamo con le armi leggendarie quindi leggendaria perciò adesso ci dovrebbe ricambiare nel tablano perciò mi sa di si guarda speriamo io mi prendo il telefono aspetta così guardo le foto allora io no ti sei bloccato un attimino il microfono e era venuto un colpo eh vabbè tipo il video caffo il video è andato tutto quel paese nel video ho detto caffo vedi che ho detto caffo ho detto un'altra parola attraverso no si lo so se si allora quando io ti ho detto prima voi adesso mettiamo il copio ma anche no quando io prima ti ho detto andiamo in un posto safe non intendevo lago languido intendevo tipo bravo guarda il metro mi è venuto un colpo mio dio no fra questo qua sta notando verso di là lo so lo so ma non ti fa andare perché si blocca andiamo là comunque vuole là l'isoletta quanto cacchio avvicina quanto cacchio avvicina con l'isoletta ma quale stai dicendo ti do la safe è sempre lo stesso con ruota allora è un pochino ma sei fa tanti problemi a me fa impressione perché se me ti arriva una zona mi fa un squalo si andiamo a morire ok scintilla svecciante cos'è no perché là non c'è tanto per soli franci io epico 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 e fra me io lo scaraccio tu rampiro ok non possiamo perché io c'ho quello la io c'ho l'epico non posso beh ma va fai di sforzo io quello bianco ho quello bianco non ho capito in meia non ho capito ancora sicuro che è quello bianco si è quella la signora la vittoria ma se andiamo tipo lì andiamo dai si fa io non posso prendere niente come no fra qua c'è un assalto bianco te lo tengo io se trovi epico dimmelo ti prego fucile a pompa verde non lo posso tenere vabbè franci meglio di avere leggendario epico la cadera pesca posso tenere no tieni 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 perché il bianco mondo crudele vabbè intanto meglio di avere un leggendario un epico è blu o meno io ho epico andiamo no mi pescare non ci provare perché non mi builda bene ma milagra che bello no dai frati prego prova a pescare dimmi se trovi ecco bravo devi pescare due volte non uno non hai capito vabbè così dimmi se trovi cose epiche allora e vabbè fra ma fra fra c'è sta leggendaria e ovviamente trovo spas epico ah è un culo epico spas epico ti lascio lo scildino posso vedere perciò cosa ti vai appunto allora spas epico faccio un'altra cesta ti prego un po' un po' per franci ho fatto una lattina bianca ma dai che schifo da quanto che non trovo una lattina io da un botto guarda io già ho tre flop mi manca l'ultimo faccia dove sei vieni aspetta ma tu non stai pescando ma stai pescando la 5 e provo ho fatto 5 e 5 e l'ho fatta anche la risa allora vabbè io lo spasso epico non mi lamento sinceramente ma dai voglio una salta e basta senza cosa senza colpi no tieni ho 30 colpi in carne e basta ma dai ce li avevo io manco me nero ascolto vai via fa tornare un colpo vai via dai andiamo lì ah grazie vai no fra il popolano blu non lo puoi dareare questo ma se io lo spasso ma se io lo spasso lo spasso uffidami un po dai un po bianco per francesco ma tutte cose blu frago e una fiocina per combattere ma guarda devono uscire non ci sono però ma perché francesco mi sa che si è buggata la volta scherzata pistola epica aspetta basta almeno un po' di granate eccetera ma perché devi fare il cretino ma poi non ho bianco sì ma perfetto abbiamo realvi ce l'ho perché non è bianco raga comunque scriveteci nei commenti quale altra challenge volete vedere in questo canale flopper adesso tipo tutte le 10 leggi del volo esatto quindi il medito ma non le potevi tenere le granate no vero ma io tipo 4 flopper perché dovremmo ottenere vieni ti ho detto vieni ti ho detto vieni ti ho detto vieni ti ho detto vieni ma io il mio lutto non mi lamento vorrei un assalto e almeno posso sparare un po' da lontano vieni qua ma vieni qua no fammi pescare tu ti devi dire adesso lì va pesce fattilo tu tieni peppa peppa la porta vieni qua ma no non mi rompe ti pesco ti pesco perché ho quindi col pipì della mitraglietta la cosa la cosa ah però sono i pipì e la mitraglietta io si vero ah vabbè uso la pistola non c'entra niente però ok mi sa che c'è stato qualcuno questa impressione ma scusa tu che armi che armi hai no pompe la salta no no me il pompe l'hai trovato alla fine e vuoi tenere una cura uno scildone e fa vedi che io ho due medikit quattro flopper una cara da pesca e giuro è stato un po' cosa devo fare bravo io io cosi come si chiama gente con l'elo scherzavo non li sento più ma perché sembra che si sta muovendo con l'occhio si sta muovendo non è che sembra lo sai che è partita la safe rap da poco no ma non c'è quale la safe si ma perché non l'avevi capito mi sa che c'è gente con l'elicottero questo presentimento non ho capito affatto l'ho visti già come l'elicottero vabbè se ne sono andati là sotto spassano giardario elastico faccio io facevo da me a me un bot ok mitraglietta bianca ti lascio un po di gol tieni puoi tenerlo a posto di arlo questo lo puoi prendere questo lascia non posso tenere quel cosa la epico il pop aspetta che c'è una cesta va va basta basta fra dai fastidio dio santo volevo quel corso ma dio santo basta adesso parte quella specie di quel meme che dice basta ma se non ce lo faccio più tra ma la safe fa impressione tra guarda se lo trovi città verde incontro forse non lo so andiamo in 6 ma a me fa venire i primi di lei aveva una peggiore perché forse è il fattisci roma è proprio perciò rinnessi ma vorremmo impure la mia io volevo quello di sera guardavo fuori alla finestra e quale vedevo voglio vedere se c'è il bar a posto ma c'è uno squalla scherzo non lo scherzava che vede rosso ma io non lo voglio vedere più di ma per non si capisce niente non si capisce dove la safe e stranissima ho capito forse non lo so perché forse perché bisogna il più vicino non lo so credo che la safe e più vicina fra secondo da mitraietta blu quanto sto volendo legge basta non me lo pingare 18 volte i cittini dammeli dammi tutto e vabbè devo prendere danni della safe no fra mi sto scagazzando addosso no fra guarda su guarda su che cosa brutta aiuto non ci metti difficilissima donna così non sembra scherzando ora è la safe ora sembra che è safe non è vero dimmi in alto fra ho trovato un'altra mista ma erica di pesciò nel quale avanti a noi non sono abiti si è fermato sembra crescata player si sparano a misa non lo so perché dove di fronte a noi tra i granate stanno vediamo tantissimo eccolo la sono due fra non provata lontano bravo 24 e dopo a vista credo la buccia sta cadendo la buccia attento 29 rotto scudo rotto scudo a quello che mi chiede non più mezzo devo stare fermo non ce l'ha capito ma abc vicino a vede una lì e l'altro lì mi guardo più chiede ok mi guardo più chiede 30 mi piace come da a video mi scelgo mi scelgo che con lelo lo so ci stanno buscendo pressione con lelo se ne sono andate se ne sono andate no fra io voglio farlo di tenere fra l'angela ti per me no la minigun di questo tra potenere no fra questi quegli ammazzo gli ammazzo vai vediamo che il più forte tra noi per sentire ma se ne sono andati che tristezza ragiai i colpi no fra che non se ne sono andati france ne sono andati scherzo france mi vuoi dare colpi colpi lancia aiutano ma non ti guardare più indietro facciamo meglio andiamo via con la via jump vieni ah ma ce l'avevi muoviti run ma non posso non c'ho mazze come non hai mazze ma che problema metti un muoviti muoviti ma va in safe altri player basta ma dove sei che cagato ma ho già detto che ci arriva uno tsunami aiutoo altri player lì nel cespuglio scherzavo che fra gli si sono morte le cuffie non gli sky vale perché un oggetto è un oggetto non è è un oggetto ma è vero però è mitico questo è vero no vero chi può creare solo il rampino però perché gli altri non sono armi gli altri ma io l'avevo visto davanti è vero me l'hai fatto prendere si è un po' strozo eh ma comunque non mi guarda più dietro abbiamo capito ma lo tsunami ci arriva addosso c'è un ottenere aiuto 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 mi sono cagata in mano ma questo è un elicottero credevo che ero un bar credevo che erano tsunami invece ero suo padre che lo chiama così a caso se raga scusate però i problemi nel video sono tanti capite visto la droga fa male raga non usate davvero muta di dio santo poi ci mi hai rito aspetta il frama ci hai fatto caso che non ci sono più hard rock allora rotto 23 23 23 23 23 23 23 scherziamo ti ho salvato quasi ti ho salvato da un po di hit aia a terra a terra sciolto 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 ma basta bello poverino ti serve shield ero ce l'ho però che abbiamo vieto a qualche altra parte ma cosa ai scelte cindoni da dietro quello che c'è è avuto uno che c'ero io esatto fra qualche cura lasciamela me please tanto sono genicidoni c'erano a caperci uno pesce bene che ritorniamo full fra dammi qualche cura tra i colpi colpi lancia colpi non c'erano bilancia si può tenere ci doni io sto sopravvivendo con il butto il flopper si va da ci sono altri shield che io ho tre armi bianche se dicevo così me ne vado ecco la gufata franci ci sono cinque cildini non lo so che voi no tieniti io si doni io pure non sei e tra una cosa io posso migliorare le armi a verdi no fra e no scusa non attento con l'elicottero sono lì ho fruttato fra la cosa sopra gente col bar guarda non guardiamo fra ti vedono vieni quando andiamo in centro del no al centro proprio della se il fan saliamo su questa collina per le ground per le cicchino ci abbiamo viva sì tutto però io ragione serve mazio 9 9 9 di tutto ok mi vedrà un po di ferro un po di mattone no teo ok lei e lascia tenti lì 21 di cilindato intanto noi come ho fatto non prenderlo schifo franno pusharlo così io lo fai 1 bravo è tra però guarda di dietro 126 a 1 rotto scudo tra full di sì sì ora mi stavo si no ma perché me l'hai preso perché muovi di modi non mi nomi e muovi di vero tra un numero satari con i colpi 2 2 2 2 di qualche salto ma quello che faceva apposta che franci però dio santo non ti mettere davanti ecco davvero te lo sei meritato io io ho qua dietro scusa allora il medicino non da me ne uno a me da meno uno ma è fatto il tetto tetto col bar e voi usciti tranquillo no 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 io sto senza cure così babbo e babbo muoio mentre di che guarda tra dai dammi dammi un po di cura a me e si odio sotto i cd erano meno perché vuol dire perché vuol dire vieni qua fra nico 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 da di quando di partire c'è l'assistenza e che partiva caso ho ucciso una data nota caduta ma siamo siamo tipo tre squadre copie tipo franci e tanto franci non ci capisco niente cost'acqua altro io posso via mi colpi cerco colpi cerco colpi cerco no no questa no si bravo bravo che ora di rampino abbiamo detto che si può prendere giusto ma mi guarda il posto di lento qualcosa di epico tipo qualcosa vabbè jump 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 io io ho quattro jump io ho uno ai colpi grazie 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 a te scusa ho sbagliato scusa attenti player lì noi da gli sparano gli sparati mi hanno visto come noi di sparare vedi bianco tra 21 bianco un miglior e bianco ok casomai sono fuori safe quindi credo che sono fuori c'è ancora un'altra coppia perciò che è quella ma che mi sta uccidendo sono morto scherzavo franci viene sono andato con poco poco no non posso morire meno io però ho solo jump vieni qua ma non salirci vado a vedere non farlo vedere fermo 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 usiamo la mia jump un'altra non lo sanno non lo sanno non farla acqua resta acqua franci è pure pure è sì i due cilindri la mila 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 non ci avrei sì me li sono finiti aiuto anzi caso mai io metto subito la giampa fra l'abbia dei sei fiume detto che ho detto fraule bianco voglio poi sempre bianco detto tu si vuole inizio così voglio vedere fai di cadere cade si tratta c'è dio io con la giampa che c'è anche da me non lo so sì 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 usa la tua usa la tua che io ne ho una mi sa che abbiamo rischiato no 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 la mia testa è un rischietto male tra questi questi qua sono i 6 dove sei io qua compriamo c'è l'acqua e tra aspetta questi qua sono sotto l'iròi appunto io di spacco ci bussero e si bussero i sali 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 sono fra perché mi sali la vita della cuffia e fra meglio di avere l'eco come ce la mettiamo ora c'è un'altra franza o se io scusa per lo spettacolo ma fra frutto questo non rischiare una macchina tra i traveri che sono sotto l'iròi questo ok esattamente buona bene però anche l'aiuto ma non ti sfoggi il popolo basta basta che ci siamo ancora siamo ancora altre scopi c'è un'altra coppia tanto ma che faccio l'accesso ha aperto un attimo ti mostro ti mostro è uno c'è questo non scendere ora sono un progetto a 12 ok da fra wielalicolo d'armi o da come valutato io la jump il caso mai scappo fanno ti se ti lasciano sopra io di ora un'altra io l'altro come che ci voglio dobbiamo chiudere tutto sta sei fai così vai e ma se ci fanno cadere lo peggio abbiamo già piaciuto questo è vero ciò che ci mettiamo adesso francisco prendere un attimo no fra quando in alto o madonna sembra il buco si vanno a vedere tra e te l'ho detto io una luna e campionato la sotto un e campionato lì sono tutti e due lì ma un e nabo tra un e nabo bianco più tutto bianco attento attento che quello è fortissimo questi qua provi latero comunque se non ce la facciamo gg è bagnato questo è per bianco va bene va bene va bene va bene va bene va bene questa cosa la doveva vivere nuova tra l'avamo atterrato va bene va bene ok ultima ultima questa lega l'ultima della del video e poi viviamo però dai questa partita è stata bellissima che oriari secondi volete dire poi noi che ci guardiamo sempre dietro con lo tsunami timo quello video devo riprendere il telefono ogni volta perché devo vedere allora cos'è la prima che ho cresciuto e lo so appunto vabbè c'è giovanni da mangiare ora quando dopo perché sto facendo il video non ma se mi esce il delta plan tipo della serie di icone che sarebbe del colori del colore azzurro lo facciamo valere come blu giusto è tipo quello la tipo quello che è ghiacciato di trevi scott e allora andiamo quello l'unico del tabellano che si può pigliare tutto ok ma si è ok 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 quindi quello per vedere ma io c'ho sempre bianco ma che cos'è sicuro che bianco un altro bellino bianco che pippo alla spray blu 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 ottimo 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 vedi che blu e buongiorno bianco francese visto cosa ho fatto io il leggendario epico blu le rarità scendere di rarità il leggendario bianco bianco già vedo una pistola blu però me la prendo subito e facciamo facili mi tengo un assalto per te o tipo faceva altre due partite facevano cittadini edito blu e poi verde e poi bianco allora sei fortunato che qui c'è un botto di roba blu quindi di roba blu di roba bianca poverino di roba blu c'è rimasto male tra di anni aia ha mai un botto io sì mi stava uccidendo la cosa è questo ma dai abba la guarda quanta vita o di prego non farmi morire la sua propria l'aiuto ho l'impressione la cosa è che ho sparato col compagno il compagno verde allora comunque torniamo alla lobby e chiudiamo il video fra torno alla lobby comunque dai la cosa ah raga raga scrivete qua sotto nei commenti se per il prossimo video che scrivete qua sotto nei commenti che nel prossimo video che challenge dobbiamo fare ok ad esempio ad raga la ognuno un tipo di arma challenge poi no no arma challenge comunque comunque ragazzi intanto metto questo comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto come al solito lasciate mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici noi ci becchiamo nella prossima live che faremo pure in un prossimo video e buonas dias raga